Ciao, io sono Luca di approcciala.it e in questo video ti racconterò di una mia esperienza con una ragazza in tutti i dettagli, dall'approccio fino al sesso poi al primo appuntamento. Per iniziare ad imbarcarci in questo video piuttosto lungo, molto probabilmente, ti ricordo che dal 21 fino al 28 dicembre 2020, in occasione della settimana di Natale, puoi ricevere il regalo una giornata di corso al vivo individuale, direttamente con me, dal valore reale di 700€, acquistando uno qualsiasi dei miei videocorsi, oppure per chi si iscrive ai corsi al vivo riceve semplicemente un giorno extra di corso al vivo in maniera totalmente gratuita. Trovi tutte le informazioni sul mio sito www.approcciala.it oppure dai anche un'occhiata ai link che ci sono in descrizione e se avessi qualsiasi tipo di domanda o dubbio puoi contattare il numero di telefono in descrizione di un mio collaboratore oppure anche se vai sul mio sito c'è il numero di telefono per parlare con un mio collaboratore puoi sia chiamare che anche scrivere su WhatsApp in modo da toglierti tutti i vari dubbi, fare domande e chiedere informazioni. Quindi partiamo con questo racconto che faccio un attimo una premessa per iniziare. Tutte le volte ci sono alcune persone stupide quando racconto queste mie esperienze d'approccio fino al sesso, lo racconto non per fare il figo, lo racconto perché poi si possa replicare il risultato, lo dico perché alcuni tutte le volte sono stupidi. Quindi questi racconti d'approccio al sesso di solito li racconto quando accade magari qualcosa di un po' più particolare nell'interazione, quindi questo qualcosa di particolare arriverà più che altro dalla parte in cui eravamo in casa con la ragazza, però comunque ci sono anche alcuni risvolti interessanti, soprattutto per chi magari non ha mai sentito questo tipo di racconti, esperienze, arriva magari ad altre scuole di seduzione, quindi non esiste, per esempio se stai guardando questo video e arrivi principalmente ad altre scuole di seduzione in Italia, di solito dopo il numero di telefono non si sa mai che cosa fare, non ci sono nessun tipo di racconti, nessuno ti sa insegnare queste cose qua, quindi sono altre parti anche molto interessanti, soprattutto per chi arriva da altre scuole di seduzione. Comunque, stiamo qua a dilungarci su questa cosa qua, mi sono segnato tutti i vari appunti, quindi in maniera cronologica, perché siccome ci sono tanti accadimenti durante il corso di un'interazione, soprattutto in un'interazione lunga, dall'approccio fino al sesso, parleremo profondamentalmente dell'appuntamento. Siccome ci sono tante cose, mi devo segnare le cose in maniera cronologica, se no diventa una cosa casuale, andiamo senza un filo logico, quindi ogni tanto guardo qua dai miei appunti. Quindi fondamentalmente questa è una ragazza conosciuta a novembre 2020, aveva fondamentalmente la mia stessa età, quindi non mi dilungo adesso qua sulla parte di approccio, la poterò all'interno del mio videocorso d'approccio al sesso, perché voglio parlare adesso più che altro fondamentalmente dell'appuntamento, soprattutto della seconda parte dell'appuntamento. Adesso ci arriviamo, quindi fondamentalmente questa ragazza l'avevo conosciuta qualche giorno prima, poi ci siamo rivisti qualche giorno dopo, appunto come insegno ovunque, dico sempre, non fate chat lunghissimi, interminabili, come insegnano presunti esperti in Italia, chattaci per sette giorni e poi dopo lo invita a uscire, sto cazzo, non è vero, è semplicemente sbagliato, non starò adesso qua a rispiegarlo milioni di volte, che ho fatto in milioni di altri video, quindi ci siamo rivisti da lì a qualche giorno, ah prima però comunque parliamo giusto un attimo, in realtà della parte via messaggio, perché ci siamo sentiti anche il telefono, perché appunto fondamentalmente c'era un ottimo botte risposta, in realtà avevamo già fissato sia il giorno che l'orario, avevamo già fissato praticamente tutti i dettagli dell'appuntamento, però comunque c'era un buon botte risposta, quindi abbiamo continuato a parlare, anche se è una cosa che di solito non faccio, però non so perché, ho continuato a parlare con lei, c'era un buon botte risposta, a un certo punto, questo da me lo ricordo, praticamente lei mi aveva fatto una battuta via messaggio, dove mi diceva un qualcosa del tipo, mi aveva fatto una battuta e poi mi aveva scritto anche non sono molto brava con le frasi di rimorchio, quindi chiaramente stavamo scherzando, stavamo flirtando via messaggio, io le ho detto un qualcosa del tipo, sono fatto mi fare un attimo mente locale, non sono molto brava con le frasi di rimorchio, e io le ho detto un qualcosa del tipo, stai cercando di rimorchiarmi, quindi le ho detto un qualcosa di questo tipo, e lei mi ha risposto dicendo, no sto cercando di flirtare con te in maniera spudorata, quindi chiaramente era tutto in un'atmosfera scherzosa, adesso qua lo sto dicendo con questo tono, però era via messaggio, ho scritto via messaggio con chiaramente un tono scherzoso, quindi lei mi ha detto, no sto cercando di flirtare con te in maniera spudorata, e io le ho già risposto, ho detto se vuoi dopo possiamo flirtare direttamente al telefono, o qualcosa di questo tipo qua, ho detto se ci sei, se sei libera dopo, possiamo flirtare direttamente al telefono, non lo so, però ho proposto la chiamata in questo modo qua, di solito è una cosa che non faccio quasi mai, senti la ragazza anche al telefono, però delle volte sì, e questo diciamo se viene fatto ti garantisce praticamente quasi nel 100% dei casi di arrivare anche all'appuntamento, quindi una telefonata che rende veramente molto 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 solido il contatto, le possibilità di avere l'appuntamento diventano praticamente quasi del 100%, però adesso non stiamo qua ad adentrarci in ogni dettaglio, perché altrimenti diventa un video di 8 ore, e già sarà sicuramente un video molto lungo, e quindi poi alla fine ci siamo sentiti semplicemente di sera, abbastanza tardi, la chiamata è durata in circa 45 minuti, cosa che in realtà non consiglio, cioè se senti una ragazza al telefono per rendere più solido il contatto, per chiacchierare un po', parloci 10-15 minuti, consiglio di non fare una chiamata di 45 minuti, però in questo caso semplicemente ci siamo dilungati, abbiamo chiacchierato e basta, quindi ci siamo visti il giorno prima che iniziassero tutte le varie normative, appunto parliamo di novembre 2020, quindi ci siamo visti il giorno prima che iniziassero tutte le varie normative, zona rossa, zona gialla e zona arancione, esattamente il giorno prima, e appunto io vivo a Milano, e in quel momento c'erano le normative del fatto che i bar chiudevano alle 18, quindi c'era questo inconveniente qua, quindi ci siamo visti di pomeriggio alle 15, in piazza Duomo a Milano, e poi appunto potevamo sfruttare quelle tre ore in cui i bar erano aperti, quindi l'ho portato in un lounge bar che c'era appunto lì, che apriva alle 15, quindi la location è veramente importantissima, non va lasciata al caso, l'ho spiegato un miliardo di volte, ho spiegato nel videocorso approccio al sesso, la parte del piano logistico, come si sceglie la location, l'ho portata in una location che era un lounge bar, ma non trovi un lounge bar a caso, che è aperto alle 15 di pomeriggio, ok? in circostanze ormai di solito quel bar in particolare è aperto dalle 7 del mattino fino a luna di notte, tutti i giorni da settimana, non si trova un lounge bar a per caso, un lounge bar di questo tipo, che va a questi orari che serve di tutto, alcol, cibo, qualsiasi cosa ti serve, ce l'hanno, dove c'è poca gente, dove c'è un'atmosfera serale, è una location perfetta, ok? non la si trova per caso appunto, l'ho spiegato nel videocorso approccio al sesso, la parte del piano logistico, quanto sia importante cercare delle location adeguate, perché? perché in questo caso se faccio un appuntamento di pomeriggio, l'appuntamento di pomeriggio di solito non facilita l'arrivare al sesso, quindi mi devo facilitare le cose, portando la ragazza in una location che abbia un'atmosfera più serale, quindi per quello, la location lì mi ha aiutato, quindi fare appuntamenti di pomeriggio in realtà ha diverse criticità, ovvero che per esempio la ragazza ti potrebbe anche incastrare fra un impegno e l'altro, se fai invece un appuntamento di sera in realtà è abbastanza improbabile che ti incastri fra un impegno e l'altro, di solito non ha altri impegni la ragazza se fai un appuntamento di sera, in questo caso non si potevano fare appuntamenti di sera perché tutti i bar chiudevano alle 18, quindi ho portato in questo lounge bar qua di pomeriggio, ci siamo visti appunto alle 15, un piccolo dettaglio che in realtà molti penseranno che è una cazzatina, però tutte le varie cazzatine che io dico alcune volte nei video in realtà sono cose che poi fanno un sacco di differenza, quando ci siamo visti non abbiamo iniziato subito a camminare, questa è una cosa che ho notato un po' di anni fa, quando ti incontri con una ragazza all'appuntamento non partite subito a camminare per dirigervi nella location, state un attimo fermi lì a parlare per ricreare un attimo di attrazione, quando arrivi all'appuntamento con una ragazza di solito l'attrazione c'era quando la ragazza, l'hai conosciuta la prima volta, oppure se è addirittura un approccio online su un'app di incontri, state un attimo a parlare lì per ricreare un attimo di attrazione, oppure nel caso di un approccio online per creare attrazione, perché non è da ricreare, non c'era, perché non vi siete mai visti al vivo, state un attimo a parlare 1-2 minuti e poi dopo vi dirigete verso la location, queste sono piccole cazzatine che però in realtà poi fanno, non dico che sia questo qua il segreto per arrivare al senso, però è sicuramente una cosa che ho notato nel corso di anni, che in realtà aiuta abbastanza. Quindi ci dirigiamo poi verso questo lounge bar, vediamo se sto saltando qualcosa, perché sto andando un po' a braccio. Ah, le mascherine, ecco, questa qua è una cazzata, che poi contavo di farci un video dedicato sulla questione del... perché molti pensano, no, ma adesso non si può approcciare le ragazze, non si può fare niente, non si può andare a puntenti, ci sono le mascherine, c'è il coronavirus, sono tutte spaventate, no, sono tutte cazzate. Pensavo di farci un video dedicato, appunto, ho già preparato per quel video, che poi probabilmente farò, non so quando, per andare a smontare questa cazzata qua, e ho preparato alcune foto, magari le metto già in questo video, foto di me che approccio ragazze che hanno la mascherina, foto di me che approccio ragazze io con la mascherina, foto di appuntamenti, di studenti durante i corsi al vivo, tutte foto di ragazze con la mascherina, oppure di studenti con la mascherina, oppure io con la mascherina, per far vedere che non c'è nessun tipo di problema, è soltanto un problema mentale che hanno gli uomini, le ragazze non si fanno nessun tipo di problema, certamente ci sono anche ragazze pippate mentalmente, in realtà la stragrande maggior parte delle ragazze non si fanno nessun tipo di problema, si può tranquillamente approcciare ragazze, sia dal vivo, sia online, online non c'è nessun tipo di problema, però si può andare anche agli appuntenti, non c'è nessun tipo di problema, basta avere un metodo. Quindi arriviamo al lounge bar, che era già lì in zona, e all'inizio la conversazione era un po' diciamo piatta e platonica, c'erano appunto dei momenti in cui chiaramente scherzavo con lei, però era effettivamente un po' piatta la conversazione, quindi adesso descriverò diciamo due canali, ovvero il fatto della parte di escalation fisica e la parte invece verbale, quindi di conversazione, perché sono diciamo le due cose principali che ci sono da un appuntamento, però se le descrivo in contemporanea viene fuori un casino, però all'appuntamento chiaramente sono due cose che vanno in contemporanea, il contatto fisico e anche la parte di conversazione, però a livello descrittivo, se le mixo, viene fuori un casino, quindi parliamo prima della parte di escalation fisica, quindi fondamentalmente ho iniziato con un escalation fisica abbastanza di sfuggita, ricordiamo che il contatto fisico è vitale agli appuntamenti, perché altrimenti si finisce direttamente non in zona amicizia, cioè negli approcci a freddo non esiste la zona amicizia, esiste il dimenticatoio, in un circolo sociale c'è la zona amicizia, ma negli approcci a freddo non è che poi rimanete amici, è finita, non vi rivedete mai più, quindi è molto importante fare contatto fisico, ad un appuntamento altrimenti non c'è il bacio e di conseguenza non si arriva neanche al sesso, si potrebbero fare anche altri sottoscorsi su questa cosa qua, però troppo complicato da spiegare in questo video, quindi ho iniziato con un contatto fisico un po' disfuggita, ogni tanto quando c'era l'occasione magari le toccavo un braccio, ma in maniera molto disfuggita, diciamo la prima, tra virgolette mossa, che ho fatto a livello di contatto fisico, si parlava di forse, diciamo l'ho toccato i capelli, ora il toccare i capelli, che tante volte ci sono persone stupide nei video, che dicono, ma come le tocchi i capelli, non è toccare i capelli così, è che li prendi, li accarezzi, li sfogli chiaramente, non so se sia il termine che ho dato, però non so che termine usare, sfogliarle i capelli, perché si parlava del, non so, non mi ricordo come l'ho introdotto, lo introduco sempre allo stesso modo, però si parlava forse del fatto che aveva, gli avevo chiesto se avessi mai fatto i capelli in un certo altro colore, se avessi sempre avuti quella lunghezza, quindi l'ho introdotto in qualche modo l'argomento, però per approfittarne per fare contatto fisico, quindi non perché io volessi parlare sui capelli, ok? L'ho utilizzato come scusa per iniziare con il contatto fisico, quindi diciamo quello è stato il secondo passo, a livello di contatto fisico, prima c'è stato un contatto fisico un po' di sfuggita, quando capitava, poi dopo ho iniziato con, diciamo una vera e propria escalation fisica, dopodiché sono andato in realtà già abbastanza sul, non dico pesante però, abbastanza, quindi qua siamo dopo, non so esattamente quanto, però forse dopo un 30-40 minuti, forse dopo più o meno mezz'ora, sono arrivato a fare la cosa lì dei capelli, dopo più o meno 40 minuti, ho fatto una roba presente, mi stava raccontando una cosa, l'ho fatto una battuta, se non mi ricordo neanche, di cosa si parlava esattamente, mi ha detto una cosa, io per scherzare l'ho detto, poverina, e tipo l'ho fatto il segno, tipo di abbracciarla, e tipo l'ho detto, vieni qua che ti coccolo, una cosa di questo tipo, ma perché? perché è una cosa, sulla quale l'ho già scherzato via messaggio, le avevo chiesto, via messaggio, quanto fosse brava da 1 a 10, nell'abilità di coccolare, però non mi ricordo come, come l'ho detta, è una cosa in realtà, tutte le ragazze ti diranno sempre 10, o ti dicono 10, oppure ti dicono 0, però lei appunto, l'avevo abbastanza presa in giro, su questa cosa qua, eccetera, quindi, era una cosa sulla quale, potevo farle facilmente, per fare quella battuta lì, in quel momento, quindi, era una battuta, che aveva un contesto, ok, perché ne avevamo già parlato, via messaggio, quindi l'ho detto, poverina, vieni qua che ti coccolo, ok, quindi era una battuta, ma riferita, a una cosa via messaggio, io appunto l'ho aperto le braccia, e lei, è venuta da me, si è appoggiata alla spalla, e da lì l'ho messo un braccio intorno, e fondamentalmente, da lì, diciamo, è stata abbastanza spianata, e fondamentalmente, siamo stati poi tutto il tempo, io con il braccio intorno, e con lei, appoggiata a me, ed eravamo praticamente molto vicini, quindi da lì, diciamo, era già abbastanza fatta, chiaramente abbastanza fatta per me, perché so come ci si muove, da quel momento, fino a poi a portarla a casa, e tutto il resto, per chi non ha la minima idea, di come procedere poi, con il contatto fisico, e come spostarsi di location, per portarla fino a casa, e cosa fare in casa, che era già fatta, quindi, da lì, appunto, sono stato tutto il tempo, in questo modo qua, con il braccio intorno, eccetera, da lì, vabbè, c'è stato anche un momento in cui, quindi, qua stiamo parlando sempre un attimo, della parte del contatto fisico, c'è stato un momento in cui, con l'altro braccio che avevo libero, a un certo punto, si parava di, ecco, avevo fatto tipo un commento, sul colore delle unghie, o qualcosa di questo tipo, ma l'avevo utilizzato semplicemente, per prendere la mano, tenere la mano, eccetera, quindi, per incrementare il contatto fisico, e da lì fondamentalmente, io di solito passo anche per il bacio sulla guancia, per testare un attimo le acque, però in questo caso, non è servito, eravamo già anche molto vicini, quindi dopo, in realtà, ci ho messo poco più di un'ora, per fare il bacio, di solito, le tempistiche sono quelle, se fai le cose fatte correttamente, diciamo, dai 45 minuti, fino allo, fra i 45 minuti e un'ora e mezza, dovresti almeno, fare il bacio, oppure, quantomeno, provarlo, ok? Potrei adentrarmi in un sacco di discorsi, però, se no, ci dilunghiamo troppo, sul fatto che potrebbe rifiutarti il bacio, non esplode il mondo, non succede niente, però in questo caso, non mi ha rifiutato il bacio, era piuttosto evidente, e qui, semplicemente, a un certo punto, mi sono avvicinato, cioè, lontano che mi sono avvicinato, perché eravamo praticamente già vicini, e semplicemente, l'ho un attimo fatta girare verso di me, e niente, sono fatto per baciarla, quindi, tantissime persone soffrono questo passaggio, e ma la bacio così dal nulla? Sì, innanzitutto, non è così dal nulla, c'è tutta una progressione di contatto fisico, ma a un certo punto, quando arriva il momento, quando hai fatto sufficiente contatto fisico, siete anche vicini, come in questo caso, sì, la baci così dal nulla, non va giustificato, non bisogna dire niente, a un certo punto, bisogna avvicinarsi, e baciarla, e tantissime persone soffrono questo passaggio, ma perché c'è una mancanza di coraggio, c'è una mancanza di sicurezza interiore, c'è la paura, ok, ma nel momento in cui togli queste cose qua, non c'è più questo, questo soffrire, questo passaggio, ma la bacio così dal nulla? Sì, ma non... Ok, mi ricordo, me lo ricordo, è una difficoltà, ci ho messo tantissimo tempo, per superarla, quella del provare il bacio, ovviamente, ci ho messo tantissimo tempo, per togliermi questa paura, ma ad oggi, veramente, non mi dà proprio più nessun battito cardiaco, il fatto di provare il bacio, mi ricordo, i tempi, ci mettevo un sacco di tempo, iniziavo a pensare, oh mio Dio, adesso la posso baciare, mi rifiuterà, non mi rifiuterà, cosa succede, se mi rifiuta, cosa le dico, quindi è semplicemente una questione di rimuovere la paura, di questa cosa qua, quindi questa qua, diciamo, è stata la parte di escalation fisica, lì nel lounge bar, l'ho baciata giusto una volta, forse al massimo due volte, e basta, se non sbagliare, solo una volta, al massimo comunque, erano due volte, ma è una cosa voluta, ok, è un errore, è un errore madornale, stare tutto il tempo, a baciare la ragazza, ok, so che è una cosa difficile, per chi ha gli inizi, mi ricordo anche io, i primi appuntenti, che riuscivo dare al bacio con le ragazze, se è tutto appuntamento a baciarsi, peccato è poi quella cosa, distrugge la tensione sessuale, distrugge l'eccitamento, perché poi diventa scontato il bacio, ok, l'attrazione inizia ad andare giù, e il bacio non è più, non crea più eccitamento, non crea più attrazione, se stai tutto il tempo a baciare la ragazza, di conseguenza, non essendoci più tensione sessuale, l'attrazione va giù, è molto difficile portarla a casa, o magari riesci anche a portarla a casa, però non si arriva al sesso, quindi è veramente importantissimo dosare il bacio, ok, poco, ogni tanto la ribaci per ritirare su l'eccitamento, l'attenzione sessuale, eccetera, ma non stare tutto il tempo appiccicato alla ragazza a baciarla. Parliamo adesso della parte di conversazione, quindi abbiamo appena visto la parte di escalation fisica, adesso vediamo un attimo la parte di conversazione, di cosa abbiamo parlato fondamentalmente all'appuntamento, quindi come ho detto, per i primi 20-30 minuti la conversazione è stata abbastanza piatta, platonica, sì, qualche scherzo, qualche battuta, però alla fine erano argomenti abbastanza piatti e noiosi, quindi dopo un po' ho iniziato a giocare in maniera, non dico più esplicita, però ho iniziato a fare domande, a parlare di cose un po' più spinte, per accendere un po' l'atmosfera, flirtare di più con la ragazza e portare la conversazione, si chiama escalation verbale fondamentalmente, quindi ci sono tre tipi di escalation, c'è l'escalation logistica, quella che ti porta da location in location fino a casa, c'è l'escalation fisica, che ti porta dalla stretta in mano fino al bacio, poi fino al sesso, e c'è la parte di escalation verbale, quindi accendere la ragazza con le parole fondamentalmente, si tratta di flirtare con la ragazza, in modo da accendere sempre più l'interesse, l'attrazione, in modo che poi sia più facile portare a casa, l'accetto, se parlate tutto il tempo di cose piatte, platoniche, parlate del meteo, della politica, non sono argomenti che ti aiutano ad un appuntamento, quindi a un certo punto ho iniziato a giocare in maniera più spinta, per esempio le ho chiesto, se avesse mai baciato una ragazza, ora queste domande qua, sono da fare con contesto, se tenesci a caso con questo tipo di domande, le possibilità, tenesci a caso senza nessun tipo di metodo, senza sapere il perché gli stai chiedendo, le possibilità che lei ti mandi a fanculo sono abbastanza alte, le possibilità che lei si indisponga, che ti dica ma che cazzo stai dicendo, sono abbastanza alte, quindi vanno fatte in un certo momento, in un certo contesto, se sbagli questo momento, questo contesto, le possibilità che ti mandi a fanculo sono abbastanza alte, quindi occhio, comunque come introdurre questi argomenti, il perché fare queste domande, in quale momento fare queste domande, più spinte, spiegato nel videocorso l'approccio al sesso, c'è una parte che si chiama come capire l'anticipo se le ci sta, quindi in quella parte la spiego alcune domande, che servono per capire fondamentalmente, quanta esperienza ha la ragazza, e nel capire quanta esperienza ha la ragazza, porti la conversazione su un piano più uomo-donna, un piano più sessuale, quindi alcune delle domande che ho fatto, per introdurre questi argomenti, le ho chiesto, se avessi mai baciato una ragazza, non mi ricordo se mi hai detto sì o no, se non sbaglio, mi hai detto o no, e le altre cose, diciamo, dico semplicemente le informazioni che ho ottenuto, poi non sto qua a dire le domande, perché sono già spiegate all'interno nel videocorso, le informazioni che ho ottenuto, sono il fatto che lei aveva avuto due relazioni, in totale, nella sua vita, aveva più o meno la mia età, adesso non mi ricordo esattamente, però più o meno, aveva la mia età, forse era leggermente più piccola di me, aveva avuto in totale due relazioni serie, la prima, quando aveva 17 anni, e fondamentalmente lei cercava una relazione seria, cioè quello era veramente molto molto ovvio, molto chiaro, da tutti gli discorsi che mi faceva, anche dai discorsi che mi aveva fatto via messaggio, anche in telefonata, quindi era veramente molto molto chiaro, di solito è piuttosto palese, se una ragazza cerca una relazione, oppure se non cerca una relazione, una relazione seria, fidanzato, fidanzata, quindi a un certo punto, ecco questo va interessante, ah ecco speriamoci un'altra cosa, fortunatamente mi sono segnato tutte le cose, in maniera cronologica, una delle cose che, un'altra informazione che ho ottenuto a un certo punto, tramite queste domande, è che lei aveva avuto anche due relazioni non serie, ora in realtà qua non ho approfondito, e forse è stato anche un errore il non approfondire, però avrei potuto approfondire effettivamente, queste due relazioni non serie, se intendeva semplicemente magari, avventure di una notte, oppure troppo amicizie, perché sarebbe stata un'informazione importante da avere in più, però fa niente, non ho approfondito questa cosa qua, a un certo punto lei, diciamo ha, non so come dire, contribuito nel portare la conversazione, più su un piano ancora più spinto, quindi a un certo punto mi ha chiesto, perché appunto ci facevano, alla fine era rientrato più o meno un gioco, ci facevano una domanda a testa, e quindi a un certo punto lei mi ha chiesto, se nel sesso fossi più attivo o passivo, quindi questa è una domanda importantissima, e io, questa è la seconda volta che mi capita, che una ragazza mi faccia questo tipo di domanda, ad un appuntamento, la prima volta mi è successo sempre quest'anno, e di suo momento non ho capito quanto fosse una domanda importante, poi chiedendo, a una persona con più esperienza di me, sì esiste persone che hanno più esperienza di me, non nel campo italiano, quando parlo della parte approcci di giorno dal vivo per strada, in Italia non ci sono persone più esperte di me, quindi purtroppo non posso chiedere a nessuno in Italia, quindi ho chiesto a una persona più esperta di me, e gli ho raccontato di un'esperienza con un'altra ragazza, che mi ha fatto questa domanda qua, a un appuntamento, e lei mi ha detto, ma cazzo, perché quando mi è successa questa cosa qua, con un'altra ragazza, non avevo capito quanto fosse importante questa domanda, non ci avevo dato così tanto peso, lei in realtà nel sottotesto, mi sta chiedendo, si sta già facendo un'idea, se poi nel sesso sarà un qualcosa di cui ne vale la pena, oppure no, perché evidentemente con le sue esperienze passate, non ha avuto esperienze molto positive a letto, per quello sta chiedendo, se nel sesso sei più attivo o passivo, che sono cose che potrebbero non capitarti a te, soprattutto se non porti la conversazione su un piano così spinto, con un'altra ragazza, con un'altra ragazza con cui mi è capitato questo tipo di domanda, mi aveva chiesto una volta, quindi parlo di un altro appuntamento, dove in quell'appuntamento, non avevo colto questi segnali, però una ragazza in passato mi aveva chiesto, se mi fossi addormentato durante il sesso, perché fa questo tipo di domanda? Perché evidentemente gli è successo a lei, che con qualcuno si è addormentato mentre facevano sesso, e quindi lei, siccome si sta facendo già un'idea, che magari potremmo fare sesso, si vuole accertare che ci sarà un qualcosa di cui ne vale la pena, ok? Quindi questo è il sottotesto, e lì è importante risponderle a un qualcosa, dove chiaramente non fai il figo, non cerchi di vantarti, non cerchi di dire, sì sono un toro, sono uno stallone, eccetera, però quantomeno glielo dici in maniera, più relazionabile possibile, ma comunque rispondendo, dicendo quello che vuole sentirsi, ovvero sul fatto che si ne varrà la pena di far sesso con te, ok? Quindi è una domanda, diciamo che ha un sottotesto piuttosto ampio, che io la prima volta che mi è stata fatta questa domanda qua, con tre ragazze in passato, non l'avevo capita, questa cosa qua, sono cose abbastanza particolari, che non sentirai mai, da nessun'altra scuola di seduzione in Italia, perché non ti sanno insegnare ad arrivare, a queste parti dell'interazione, comunque, andiamo avanti, ah ecco guarda, questo qua me l'ho segnato, appunto poi dopo, questo è un piccolo spoiler del dopo dell'interazione, quando eravamo a letto in casa, mi aveva detto, che con i suoi due ex del passato, i suoi due ex del passato, erano persone molto passive, sia nella vita che anche a letto, per quello appunto mi aveva fatto questa domanda qua, in quel momento, io chiaramente in quel momento non lo sapevo per certo, però sapevo, da quell'esperienza passata, che se mi aveva fatto questa domanda, era per questo motivo, e poi dopo, quando ero a letto con lei, ne ho avuto la conferma, perché me l'ha detto esplicitamente, che i suoi due ex, erano persone molto passive, sia nella vita, che anche ha letto, quindi, poi dopo ho approfondito ancora un po', l'ho chiesto quale fosse la sua posizione preferita, ha letto, quindi è stato tutto un crescendo di conversazione, per andare sempre su cose più spinte, che aiutano molto poi, non so come dire, facilitano molto di più la transizione, nell'arrivare al sesso, ok? Quindi se non parlate, ma non è necessario per forza parlare di queste cose qua, però, si tratta di flirtare con la ragazza, cioè parlare di cose troppo platoniche, porterà l'appuntamento nel dimenticatoio, ok? Quindi andiamo avanti, quindi questa qua è stata la parte più che altro, diciamo, di conversazione all'appuntamento, diciamo, alcune cose di contorno, ovvero il fatto che, io appunto, io mi sveglio molto tardi, di norma, siamo fra le 12, quindi fra mezzogiorno, e le 4 di pomeriggio, e quindi quel giorno là, sono andato l'appuntamento, ci siamo visti alle 3 di pomeriggio, io non avevo ancora pranzato, quindi ho iniziato a seminare già fin dall'inizio, ho detto che non avevo pranzato, ma perché? Non è un dirglielo a caso, perché avevo il piano di portarla a casa, con una scusa del fatto, che io non avevo ancora pranzato, andiamo a casa mia, così almeno pranzo, ok? Quindi c'era un senso, io questa cosa qua, l'ho già detta all'inizio dell'appuntamento, ancora prima che arrivassimo nel lounge bar, sì, quindi si chiama seminare, ok? E' molto improbabile che, te ne esci da all'improvviso, con un invito per andare a casa, e le ti dica di sì, e venga a casa con te, quindi va seminata la cosa durante l'interazione, quindi dirle, siccome poi è una cosa che volevo usare per l'invito, infatti l'ho usata, poi dopo per l'invito, adesso ne parliamo tra poco, però bisogna già iniziare a seminarlo prima, non uscirse poi dopo all'improvviso, e io ho detto anche alcune altre volte durante il corso dell'appuntamento, quindi serve perché così, nell'idea, nella sua testa, si inizia a formare questa idea qua, del fatto che io non ho ancora pranzato, e quindi poi dopo quando le faccio l'invito, facendo leva su quello, è molto più facile che lei accetti, ok? Quindi questa qua è una cosa appunto che ho detto, che l'ho fatto con lei, che si chiama seminare, nella location, quindi nel lounge bar, sono stato un po' di più del solito, io di solito sto nelle varie location, un'ora, un'ora e mezza, fondamentalmente non di più, perché poi dopo ci si sposta di location, per vari motivi, per creare più fiducia, eccetera, e con questa ragazza qua non l'ho fatto, perché non c'erano altre location, ok? Di solito la location deve avvicinarsi vicino a casa, però in quel momento, per via delle varie normative, quindi tutti i bar chiudevano le 18, quello era l'unico posto che c'era in quel momento, che era valido per un appuntamento, se avessi portata in una zona più vicina a casa mia, non c'erano bar aperti, ok? Quindi sono stato volutamente più o meno due ore, due ore e un quarto, due ore e mezza forse, in quella location, però di solito non va affatto, ok? Se ti puoi spostare di location, dopo un'ora, un'ora e mezza, spostati di location, a meno che non sei certo che magari stando un'ora e quaranta, due ore, poi potrai portarla a casa, allora ok, rimani in quella location, però di solito è molto molto utile spostarsi di location per creare più fiducia, e la fiducia poi è vitale per portare una ragazza a casa, quindi in questo caso però specifico, sono rimasto due ore e due ore e un quarto, forse anche due ore e più, circa due ore e un quarto in questa location qua, fino a quando poi è arrivato uno dei camerieri a dirci che stavano per chiudere, li chiudevano alle 5 e mezza, quindi verso le 5 e un quarto, quindi da più o meno due ore e un quarto che eravamo nella location, stava per chiudere, quindi ha arrivato il cameriere a dirci che stavano per chiudere, io ho colto l'occasione al volo per farle l'invito per andare a casa, l'invito per andare a casa non è oggetto di questo video, perché è spiegato nel videocorso dell'approccio al sesso, la parte di invito non è spiegata da nessuno a livello mondiale, io ho comprato ovviamente tanti, ma tanti, tanti videocorsi, anche da esperti in America, esperti nel Regno Unito, esperti in Australia, cioè persone che insegnano in tutto il mondo, io ho comprato certi corsi soltanto per vedere se la parte dell'invito è insegnata, e ho buttato un sacco di soldi per questo motivo, però ho portato l'esperienza sul fatto che questa parte qua, dell'invito per andare a casa non è insegnata da nessuna cazzo di parte, e io ovviamente questa qua è la difficoltà che io principalmente agli inizi, ovvero il fatto che ero in grado di fare delle interazioni buone, arrivo fino al bacio, e poi non capivo che cazzo dovevo fare dopo, e quindi ci ho messo un casino di tempo per imparare questa cosa qua, che alla fine mi sono creato più o meno da solo, perché non ho trovato da nessuna parte questa cosa qua, della parte di invito a casa, quindi se permetti, è riservata soltanto ai membri del mio videocorso dall'approccio al sesso, quindi fondamentalmente le faccio l'invito per andare a casa, e lì dopo l'invito non mi ha detto di sì, non mi ha detto di no, questa è una cosa molto importante, le ragazze agli inviti di solito non dicono quasi mai di sì esplicitamente, ti dicono, il non dirti niente equivale al sì, perché il dirti di sì esplicitamente a parole scarica responsabilità sulla ragazza, e ragazze non vogliono sentirsi responsabili, quindi ve l'ho detto più o meno in che zona vivevo, nell'invito e lei mi ha detto appunto, cosa mi ha detto? ah sì, mi ha chiesto dove fosse esattamente, io abito in zona Cadorna, a Milano, e sicuramente lei non sapeva esattamente dove era, perché se lo sbaglio lei viveva leggermente fuori Milano, non mi ricordo, comunque mi aveva chiesto dove fosse esattamente in zona Cadorna, se ci fosse poi il treno, la metro per tornare a casa, eccetera, quindi le ho fatto vedere dove era sulla mappa, e da lì ci siamo alzati, e ci siamo diretti verso casa, quindi importante il fatto di alzarsi e andare, e non aspettare che sia lei ad alzarsi, perché non lo farà, questo è un errore che facevo un sacco, io non dico agli inizi, perché comunque parliamo, allora ci ho messo anche tanto tempo per imparare questa cosa qua, adesso non mi ricordo esattamente quando l'ho imparata questa cosa, però mi ricordo io facevo gli inviti per spostarci di location, oppure per andare a casa, e poi stavo seduto, non si alzerà la ragazza, quindi devi alzarti e andare, e lei ti segue, ok? Chiaramente se ti ha detto di no, ok? se la risposta è negativa ovviamente non ti seguirà, quindi con del buon senso, comunque, un'altra uscitita dalla location, io in realtà non so perché, ero un po' di fretta, quindi, però questo è un errore, cercare di fare le cose troppo fretturosamente, perché il cercare di fare le cose troppo di fretta, poi fa perdere qualità l'interazione, quindi non so perché, non mi ricordo perché, era abbastanza di fretta, forse perché pensavo di non avere effettivamente così tanto tempo, perché pensavo poi che lei dovesse tornare a casa, non mi ricordo però, ero un po' di fretta, non mi ricordo il perché, però appena mi sono reso conto, invece lei era molto calma, molto tranquilla, perché appunto, non mi ricordo, lei se non sbaglio viveva leggermente fuori Milano, e quindi, quando poi siamo passati per la zona della Piazza Duomo, si è comunque fermata un attimo, si è andata a guardarsi intorno, era molto meravigliata, perché appunto, come ho detto, se non sbaglio viveva un po' fuori Milano, quindi evidentemente, non veniva spesso in centro, e quindi io invece, beh, ho passato la mia vita in Piazza Duomo a Milano, quindi, normale per me, quindi non so perché, ero un po' di fretta, però come ho detto, nel momento in cui, cerchi di andare troppo veloce, si perde di vista la qualità dell'interazione, ok, perdendo qualità dell'interazione, poi le cose non funzionano, quindi appena mi sono reso conto, che stavo cercando di andare troppo di fretta, ho detto, ok, fermo, tranquillo, stanno andando a casa con te, va bene, stai lì, e arrivate comunque a casa, quindi, nel tragitto per andare a casa fondamentalmente, ho mantenuto viva la conversazione, con discorsi a caso, non serve niente di che, semplicemente non far morire la conversazione, e da qua, arriviamo alla parte in casa, quindi fondamentalmente, in casa, mi sono seduto, cioè no, non mi sono seduto, si è seduta per prima lei, si è seduta sul letto, io ho una monolocale, che ho già spiegato in diversi video, che in realtà è uno svantaggio, perché se porti la ragazza a casa troppo velocemente, e lei si trova già nella stanza, in cui c'è il letto, in cui avverrà il sesso, di solito impazzisce, la ragazza, se la porti a casa troppo presto, e si trova già nella stanza, dove avverrà il sesso, ok, quindi in realtà è uno svantaggio, in realtà questa cosa qua, l'ho imparata dopo, la porti a casa troppo velocemente, e poi impazzivano, quindi in realtà è uno svantaggio, la vera monolocale, una volta pensavo fosse un vantaggio, però comunque, lei si è seduta subito sul letto, non è impazzita, perché appunto, l'ho portata a casa, con le tempistiche abbastanza giuste, ho messo su della musica, le ho offerto dell'acqua da bere, perché appunto non avevo, non avevo dell'alcol in casa, se non sbaglio, forse sì, però comunque, avevamo già bevuto un drink, al lounge bar, e comunque lei, non era una che interessava molto, bere alcol, quindi l'ho offerto dell'acqua, e io mi sono ordinato da mangiare, mi sono ordinato un poké, quindi per chi ha fatto i corsi al vivo, sa che i corsi al vivo, mangio quasi sempre il poké, quindi da lì abbiamo iniziato a chiacchierare, di cose abbastanza inutili, del più, del meno, e a un certo punto, si parlava se non sbaglio, di ballare, non mi ricordo esattamente, il perché, e quindi siccome c'era già la musica su, che andava, abbiamo improvvisato un ballo insieme, quindi, però questa cosa l'ho fatta per fare, in realtà non è che servisse, perché tanto ero già arrivato al bacio, però l'ho fatta per riprendere il contatto fisico con lei, e lì poi quando eravamo in piedi, che stavamo ballando, da lì sono arrivato di nuovo al bacio, quindi l'ho ribaciata qua, come ho detto, non mi ricordo se l'ho baciata due volte, nel lounge bar, però se non sbaglio, comunque questa era la seconda o terza volta, che la baciavo, quindi come ho detto prima, non appiccicarti a lei, dopo che arrivi al bacio, quindi questa è stata la seconda o terza volta, che l'ho baciata, quando appunto eravamo in casa, da lì ci siamo risieduti sul letto, quindi da qua descrivo semplicemente, principalmente la parte di escalation fisica in casa, non mi addentrò in ogni dettaglio, perché appunto i vari dettagli dell'escalation fisica, sono spiegati anche quelli, nel videocorso approccio al sesso, la parte di escalation fisica, adesso lo so di essere ripetitivo, però non vi è insegnata da un cazzo di nessuno, soprattutto in Italia, all'estero, infatti l'ho imparata da persone all'estero, in Italia non è insegnata la parte di escalation fisica, da dopo che siete in casa, si pensa che una volta sei in casa, accade magicamente, ma non accade magicamente, come dalla stretta di mano fino al bacio, c'è un escalation fisica, anche quando siete in casa, dal bacio fino al sesso, c'è un escalation fisica, non accade per caso, non è che magicamente all'improvviso vi ritrovate nudi, ok? C'è un escalation fisica dal bacio fino al sesso, quindi non la descriverò in ogni dettaglio, però quantomeno diamo un minimo di struttura per appunto raccontare gli avvenimenti, quindi a un certo punto lì che continuiamo a parlare, eccetera, io poi ho ritrovo a mangiare, ho mangiato un po', eccetera, e ho ripreso l'escalation fisica, riprendendo a baciarla, dopo più o meno non mi ricordo quanto, e da lì sono iniziato ad andare un po' più sul pesante, quindi a scendere, a baciarla sul collo, eccetera, e forse anche a morderla sul collo, perché dipende da ragazza a ragazza, piacciono cose diverse, adesso qua, non sto a dilungarmi, e lì mi ha fatto, diciamo, la prima obiezione, sul fatto, mi ha detto qualcosa del tipo, stasera guarda che non faremo niente di quello che hai in mente, o qualcosa di questo tipo, non mi ricordo esattamente, quindi quella era la prima obiezione che mi ha fatto, per dirmi, stasera non faremo sesso, tutto normale, tutto regolare, mi ricordo i tempi quando mi capitavano, parliamo di 2016, quando mi capitavano queste obiezioni, qua che andavo in panico, dicevo, oh mio Dio è finita, è normale, un sacco di ragazze dicono questa cosa qua, quindi se ti capita che una ragazza ti dice, stasera non faremo sesso, e te lo possono dire anche in maniera molto esplicita, non ti preoccupare, nel 99% di volte è una cazzata, se la sai però agirare in una maniera corretta, quindi sul momento di sicuro non metterti a dibattere con lei in maniera logica, lì è esattamente il modo per perdere, quindi semplicemente io le ho detto un qualcosa del tipo, sì sì tanto non ti preoccupare, la prima sera, prima puntamento non faccio mai niente, ok? Quindi sul momento lì non ti mettere a dibattere, agira questo ostacolo e basta, ok? Quindi il concetto, anzi no non lo dico perché è spiegato nel video con lo so approccio al sesso, sulla parte di come andare a rompere queste obiezioni qua, però comunque lo spiegherò in realtà in parte in questo video, quindi andiamo avanti, a un certo punto mi ha chiesto anche il, quindi il fondo, beh lo dico dopo, a un certo punto mi ha chiesto il che cosa pensi di me, quindi non so, veramente non so perché le ultime ragazze che ho avuto, mi chiedono tutte sempre quando siamo in casa, che cosa pensi di me, credo che questa cosa qua dipenda dal fatto che vuole, perché lei sta pensando che faremo sesso, però vuole avere la certezza che io non la giudichi, in questa fase diciamo un po' come la sto interpretando, perché mi è capitato sempre con diciamo le ultime, boh, 5-6 ragazze, quindi lì semplicemente l'ho detto che mi piaceva per caratteristica 1, 2, 3, quello che era, è importante che quello che lei dici non siano caratteristiche di tipo fisico estetico, quindi che siano caratteristiche di personalità, suoi tratti del carattere, eccetera, suoi passioni, suoi interessi, eccetera, quindi è veramente molto importante, in modo che lei abbia la percezione di essere speciale, se la ragazza ha la percezione di essere una delle tante, è un problema piuttosto grosso, e magari lo è, una delle tante, in alcuni casi è una delle tante, magari sarà una delle tante, però la ragazza non vuole avere quel tipo di percezione, molto molto importante questa cosa qua, quindi l'ho risposto, non mi ricordo in che modo l'ho risposto, però come ho detto il concetto è questo, e da lì, io mi sono sdraiato sul letto, diciamo mi sono mezzo sdraiato, comunque ero appoggiato a un cuscino abbastanza grosso, quindi mi ero mezzo sdraiato, però nello sdraiarmi, diciamo l'ho presa, l'ho tirata verso di me, e da lì diciamo, lei è cambiata totalmente, quindi da lì è diventata, non so come dire, abbastanza accesa, focosa e aggressiva, cioè aggressiva nel senso buono, molto, come ho detto, molto accesa, molto dinamica, cioè mi è saltata addosso, e lì l'ho fatto diciamo questa battuta qua, perché in realtà per tutto il tempo, anche via messaggio, mi diceva che era una molto tranquilla, una molto soft, eccetera, e da lì tipo è cambiata totalmente, quindi l'ho fatto questa battuta qua, anzi gli ho chiesto anche proprio, ma non eri una super soft, tranquilla, eccetera, quindi questo è anche interessante, per, io mi ricordo quando sentivo questi retroscena qua, ed che ero gli inizi, veramente, a me erano molto utili, quindi spero che possano essere utili anche ad altri, perché quando non si ha esperienza, si tende a vedere le ragazze come questi esseri angelici, perfetti, e no, ma lei, lei non potrebbe mai fare certe cose, lei è una tranquilla, è una così brava ragazza, no, non è così, ok, non significa che vai in giro a scopare con tutti, che fa cose brutte, cioè non è quello, ok, semplicemente capire che le ragazze hanno anche il lato sessuale, ok, per gli standard della società però non possono farlo sapere in maniera così esplicita, in realtà le ragazze hanno molto più interesse nel sesso rispetto agli uomini, le ragazze provano molto più, è proprio scientificamente provato, adesso non sto qua a dilungarmi con tutti i vari dati che ho già detto in diversi video, ma è oggettiva come cosa, è proprio scientificamente provato, le ragazze provano molto più piacere rispetto all'uomo nel sesso, ok, le ragazze hanno molto molto interesse nel sesso, solo che non possono farlo sapere in maniera così esplicita, perché agli occhi della società, che sia giusto o sbagliato è irrilevante, è semplicemente così, agli occhi della società una ragazza che fa sesso con tanti uomini, che fa sapere che ha un interesse eccessivo nel sesso, viene giudicata, viene giudicata come una zoccola, come una troia, eccetera, è irrilevante che pensi che sia così o che non sia così, è così, è irrilevante che pensi che sia giusto o sbagliato, è così, non sarà giusto però, è così, mentre l'uomo invece, c'è un uomo che fa sesso con tante ragazze, viene acclamato come il figo, eccetera, quindi questo è uno stereotipo sociale che non si può cambiare, quindi come ho detto, è irrilevante che tu pensi sia giusto o sbagliato, quindi una ragazza non può far sapere in maniera troppo, poi ci sono alcune ragazze che se ne sbattono il cazzo del giudizio sociale, e quindi lo fanno sapere lo stesso, lo manifestano in maniera piuttosto evidente, ma la maggior parte delle ragazze devono essere più caute, nel far sapere che hanno questo interesse nel sesso, infatti poi molti uomini ci cascano, ci cascavo anch'io, ai tempi si pensa che no, ma lei in realtà non lo vuole, e se vuoi fare sesso con una ragazza, al primo appuntamento, sei uno superficiale, e tutte queste cose qua, queste cazzate qua, e poi ti impediscono di arrivare al risultato, ok, potrei fare un video solo su questo, probabilmente poi verranno spiegate anche nelle sedie apposite, questi concetti qua, quindi andiamo avanti con il mio racconto, sono andato avanti con l'escalation fisica per arrivare fino al sesso, come ho detto, è spiegata nel videocorso l'approccio al sesso, però tutte le volte cercavo di mettere la mano là sotto, tutte le volte cercavo di mettere la mano sotto i pantaloni, lei mi fermava, quindi da qua sono iniziate altre obiezioni e altre resistenze, in questo caso perché lei aveva la convinzione in testa che far sesso al primo appuntamento fosse sbagliato, quindi questo racconto in realtà, lo sto raccontando questa esperienza qua, perché è stato interessante poi il fatto che questa convinzione è stata spaccata, ok, ci ha avuto un po' di tempo adesso, lo racconterò come è stato fatto, però fondamentalmente lei aveva questo tipo di convinzione, perché con le sue due precedenti relazioni, con i suoi due ex fidanzati, aveva fatto sesso al primo appuntamento, e quindi lei, siccome poi queste relazioni sono finite male, lei, non so come dire, ha collegato il fatto che una relazione finisce male se fai sesso al primo appuntamento, ma è una cazzata, però lei l'ha legata questa cosa qua, e di conseguenza ha questa convinzione qui, ok, che è abbastanza difficile da spaccare, comunque è stata spaccata durante il corso dell'appuntamento, però è stato abbastanza difficile, però lo sto raccontando per far capire che in realtà quasi tutte le ragazze possono far sesso al primo appuntamento, al massimo al secondo appuntamento, a me non è mai successo di far sesso con una ragazza al terzo appuntamento, tanto meno al quarto, al quinto, all'ottocentesimo, eccetera, quindi di solito con una ragazza, se sai fare cose correttamente, anche se lei ha questo tipo di convinzione, al massimo, o al primo, o al secondo appuntamento, se fai le cose fatte correttamente, quindi da lì appunto siamo stati un po' a giocare, però non c'è stato modo di andare oltre, quindi io ho un certo punto, perché appunto questa obiezione qua in realtà è abbastanza forte, nel momento in cui la ragazza ha questo tipo di convinzione, è abbastanza difficile spaccargli questo tipo di convinzione, e quindi a un certo punto io ho addirittura mollato, ho detto va bene, infatti lei mi ha anche detto a un certo punto, mi ha detto guarda, non voglio essere la troia che la dà al primo appuntamento, perché appunto a un certo punto mi ha detto proprio, guarda ti sto dicendo di no adesso, sempre solo perché non voglio essere la troia che la dà al primo appuntamento, quindi come vedi il condizionamento sociale è molto forte, quella cosa del fatto che se è una ragazza fa sapere troppo, che ha un interesse nel sesso, viene giudicata eccetera, quindi è molto importante sapere questa cosa qua, per sapere poi perché ti fa questo tipo di obiezioni, ma lei in realtà lo vuole, quindi bisogna andare a far leva per esempio su farle eccitare di più, che è stato quello poi il segreto per andare a spaccare questo tipo di obiezioni, ma poi c'è voluto anche tempo, quindi non solo farle eccitare di più, c'è voluto tempo, però io a un certo punto avevo proprio mollato, perché ho detto, boh, vabbè, a questo appuntamento non ce la si farà, e quindi è inzietta la parte diciamo di coccole, tra virgolette, anzi senza virgolette, quindi che è durata, avevo più o meno 15, 20, 25 minuti, però chiaramente stando abbracciati, stando attaccati, dopo un po' una cosa tra l'altro, un bacio tra l'altro, si ricomincia diciamo con la parte più spinta, dove poi ci ho riprovato effettivamente ad andare avanti per arrivare fino al sesso, quindi io però realmente avevo lasciato stare, però come ho detto, stando attaccati, stando abbracciati nel letto, dopo un po' una cosa tra l'altra, e di conseguenza è ripartita diciamo un'escalation fisica per arrivare fino al sesso, quindi vediamo un po' se mi sono insegnato qualcosa su questa parte qua, ah ecco, a un certo punto, quando è ricominciata la parte di escalation fisica, lei a un certo punto mi ha detto proprio qualcosa del tipo, ah ma non ti piace proprio arrenderti, o qualcosa di questo tipo, ma me l'ha detto proprio con un tono divertito, con un fatto che le piaceva, lì ho capito che si poteva fare, ho capito che le piaceva il tratto della dominanza, ok? Non sto dicendo che bisogna essere violenti con le ragazze, eccetera, tuttavia la dominanza era una cosa che a realtà piace praticamente quasi ogni ragazza ha letto, quindi, ripeto, non sto dicendo che bisogna essere violenti, però poi questi video sono visti anche da persone stupide, che fraintendo, non penso a una persona stupida, arrivi fino a questo punto del video, però non si sa mai, quindi da lì ho capito che si poteva andare avanti, quindi stavolta sono riuscito ad andare avanti con l'escalation fisica, sono riuscito a mettere la mano sotto le mutande per farle eccitare di più, quindi è quello il senso per andare a spaccare questo tipo di obiezioni, e da lì appunto utilizzavo anche delle cose verbali per andare a tranquillizzare sul fatto che non stiamo facendo niente di male, non stiamo uccidendo nessuno, non stiamo rapinando nessuno, non stiamo facendo niente di male fondamentalmente, quindi tutto questo serve per rassicurarla di più sul fatto che, per andare a spaccare il fatto dell'obiezione, che fare il senso al primo appuntamento è sbagliato, come ha detto nella sua testa, lei aveva legato questa cosa qua al fatto delle sue due relazioni passate, che erano finite di male, e con i suoi due ex fidanzati aveva fatto senso al primo appuntamento, quindi nella sua testa aveva collegato queste due cose, ma era insensato, questa obiezione qua, era insensata a livello logico, però non puoi spiegare, spiegargliela a livello logico, soprattutto in questi momenti qua, non è una cosa logica, quindi va spaccata in una maniera emozionale, questa obiezione, quindi il concetto era farla eccitare di più, quindi la stavo rassicurando, le ho anche detto che con le mie ex avevo fatto sesso al primo appuntamento, non c'era stato nessun tipo di problema, in realtà con una ci avevo fatto sesso il giorno stesso, il giorno che l'avevo conosciuta, ma comunque non mi sembrava il caso di dirglielo, però le ho detto che con le mie ex avevo fatto sesso al primo appuntamento, non c'era stato nessun tipo di problema, eccetera, quindi serviva per andare sempre a spaccargli quell'obiezione lì del fatto che era sbagliato far sesso al primo appuntamento, quindi però anche lì non c'è stato modo di continuare poi, quindi veramente non sono riuscito ad andare oltre, in quel momento lì, però è ritornato un altro momento, diciamo un altro momento coccole, quindi è stato alternato fra momenti di escalation fisica pesante, e poi momenti tranquilli dove invece ci fermavamo, stavamo semplicemente abbracciati, chiacchieravamo, eccetera, in casa saremmo stati tre ore in totale, circa tre ore, quindi l'appuntamento, boh non mi ricordo, l'è andata via verso le otto e mezza, e ci siamo visti alle quindici, adesso non so quanto faccia il totale, però in casa se non sbaglio sono stati circa tre ore, quindi c'è avuto un bel po' di tempo per andare a spaccare queste obiezioni qua, e quindi c'è stato l'altro momento coccole, eccetera, dove io realmente avevo smesso di provarci, perché veramente pensavo, boh non riesco ad andare oltre, quindi non si farà niente, quindi perché aveva veramente questa convinzione molto forte del fatto che non si potesse, che era sbagliato far sesso al primo appuntamento, quindi io lì nel momento coccole avevo di nuovo lasciato stare, però come ho detto, dopo dieci, quindici, venti, venticinque minuti che si è lì abbracciati, che dopo un po' una cosa tira l'altra, si riprende, quindi per la terza volta con l'escalation fisica, eccetera, vediamo se mi sono segnato qualcosa, quindi niente, fondamentalmente, a Echoward, qua l'ho detto, l'ho detto, ho cercato di mettere di nuovo la mano sotto i pantaloni, ma l'ho detto, tranquilla, non facciamo niente, però voglio soltanto farti godere come prima, quindi l'ho detto, guarda, non faremo sesso, voglio però soltanto farti godere come prima, perché chiaramente le era piaciuto molto prima, e però, chiaramente, io so che facendola eccitare di più, poi si può andare avanti con l'escalation fisica, quindi ho utilizzato questo, diciamo, trucchetto, che non è un trucchetto, perché, come ho detto, si pensa che, no, me la stai fregando, lei non lo vuole, no, lei lo vuole, è che ha dei preconcetti in testa, andati dal condizionamento sociale, che le fanno pensare che è sbagliato, ma non è sbagliato, non stai facendo niente di male, non stai uccidendo nessuno, ok, quindi, ho utilizzato questo di nuovo, questo, diciamo, espediente, per rimettere la mano sotto le mutande, per farla eccitare di nuovo, e stavolta sono riuscito ad andare ancora oltre, con l'escalation fisica, quindi sono riuscito a toglierle i pantaloni, in realtà, solo per metà, perché ero un pantalone basso in tattillati, quindi, a un certo punto, non riuscivo più a sfilare, quindi mi ha detto, aspetta, te lo faccio io, e mi ha detto, nel frattempo, spegni la luce, quindi, da lì, diciamo, aveva, non so come dire, ha consentito, si l'ha lasciata andare, e, probabilmente, dopo che ho spento la luce, di nuovo, ha razionalizzato di nuovo, e ha detto, no, non possiamo, e quindi, da lì, di nuovo, il concetto è, farla eccitare di più, quindi, ho messo di nuovo, la mano là sotto, per farla eccitare di più, e, da lì, poi, si è uscito tranquillamente, a toglierle i pantaloni, e, da lì, mi ricordo abbastanza bene, come è andata dopo, perché, nel momento in cui, ho tolto i pantaloni, ho continuato a fare eccitare di più, dopodiché, dopo un po', ho preso il preservativo, ok? nel momento che aprivo il preservativo, ha di nuovo razionalizzato, siccome era buio, mi ha detto che spegna luce, avevo lasciato giusto una piccola lucina, però si vedeva quasi niente, e, e, siccome non si vedeva quasi niente, mentre aprivo il preservativo, e non, ci ho messo un po', perché non si vedeva niente, e quindi, nel momento in cui, è stato proprio un gioco di secondi, in quei secondi, in cui stavo a prendere il preservativo, ha detto, no, ma cosa fai? Quindi ha di nuovo rirazionalizzato, quindi è tornato di nuovo sulla sua convinzione, che no, non possiamo far sesso al primo appuntento, però il gioco è lo stesso, ok? Vedeva giù, e la fai eccitare di più, quindi lì, mentre ero con una mano occupata, nel fare eccitare di più, lì tipo, aprivo il preservativo con i denti, e me lo sono messo con una sola mano, quindi, perché l'altra mano era occupata per fare eccitare di più, e, e in quel modo poi da lì, non c'è stato più nessun tipo di problema, e obiezione, una volta che abbiamo iniziato a far sesso, da lì, non c'è stato più nessun tipo di obiezione, perché da lì, abbiamo iniziato a far sesso, ok? Perché avevamo già iniziato, ok? Però questa qua, mi sono segnato, vediamo le considerazioni finali che mi ero segnato, vabbè, allora ho raccontato un po' a braccio, però, dovrei aver detto più o meno tutto, quindi, in casa, appunto, ci sono avute più o meno tre ore, due, non so, due ore, due ore e mezza, per andare a spaccare questo tipo di obiezione, e in quei momenti, quindi ci sono stati, diciamo, tre momenti di escalation fisica, pesante, e i vari due intermezzi, diciamo, momenti tranquilli, momenti coccole, in cui io, veramente però, avevo lasciato stare, perché veramente pensavo, non posso farcela, questo appuntamento, cioè, sarà per un altro appuntamento, quindi questa esperienza l'ho raccontata fondamentalmente, perché è interessante vedere come, anche se la ragazza ha la paramentale del fatto che no, non posso far sesso al primo appuntamento, in realtà, si può fare, non dico tranquillamente, serve sapere come si fa, però si può fare, oppure al massimo, al secondo appuntamento, ok? Qualsiasi ragazza, diciamo, il 90, 99% delle ragazze, possono fare tranquillamente sesso al primo appuntamento, o al secondo appuntamento, se si fa le cose fatte correttamente, ok? Come ho detto, a me non è mai capitato di far sesso al terzo appuntamento, al quarto appuntamento, eccetera, quindi, poi dopo, dopo aver fatto sesso, io faccio sempre una specie di sondaggio, questionario, dopo aver fatto sesso con una ragazza, e gli chiedo, per esempio, in quale momento hai pensato che avremmo potuto far sesso, in questo caso, però se non sbaglio, non glielo ho chiesto, glielo ho chiesto, che cosa è che le era piaciuto di me, perché lì poi è interessante sentire le risposte, e lì senti effettivamente, che da che cosa è realmente attratta a una ragazza, e diciamo, senti risposte diverse a seconda della ragazza, però fondamentalmente, sono sempre le stesse cose, lei mi ha detto, cosa mi ha detto? Mi ha detto la parte di ambizione, ok? Perché appunto mi ha detto i suoi due ex, erano persone, che erano persone molto, diciamo, passive nella vita in generale, e poi anche la parte, mi ha detto che era chiaro, che non mi fregava un cazzo, e giudice e gli altri, però questa cosa qua, si riconduce al discorso della sicurezza interiore, ok? Della assenza di paura, ricordiamoci che, la caratteristica principale, dalla quale delle donne sono attratte, è la sicurezza interiore, quindi in questo caso, me l'ha detto, in un altro modo, ma fondamentalmente, sono sempre quelle, le caratteristiche che creano attrazione, in una ragazza, quindi se anche tu vuoi replicare, lo stesso risultato, su una o più ragazze, comunque, ti ricordo che per avere una fidanzata, devi comunque prima andarci eletto, quindi è necessario imparare, un metodo dall'approccio al sesso, che è spiegato esattente, all'interno del mio videocorso, l'approccio al sesso, un metodo passo dopo passo, dall'inizio di interazione, fino alla fine dell'interazione, lo trovi cliccando, sul link in descrizione, oppure andando sul mio sito, www.approcciala.it, ti ricordo che dal 21 fino al 28 dicembre 2020, per la settimana di Natale, puoi ricevere in regalo, una giornata di corso al vivo, individuale, direttamente con me, dal valore reale di 700 euro, acquistando uno qualsiasi dei miei videocorsi, oppure anche per chi si iscrive ai corsi al vivo, riceve semplicemente un giorno extra di corso al vivo, in maniera totalmente gratuita. Come detto, trovi tutte le informazioni sul mio sito, www.approcciala.it, oppure guarda anche nei link che ci sono in descrizione, per chi avesse qualsiasi tipo di domanda, c'è un numero di telefono in descrizione, che puoi sia chiamare, sia anche scrivere su WhatsApp, e parlerai direttamente con un mio collaboratore, in modo da toglierti qualsiasi tipo di dubbio, fare domande, chiedere informazioni, eccetera. Quindi, detto ciò, ci vediamo al prossimo video. Ciao!